La polizia ha tratto in arresto una cittadina bulgara di 35 anni, gravemente indiziata del reato di furto con strappo. La malvivente, con una scusa, ha avvicinato un 83enne. Evidentemente il fatto che si trovasse in una via del centro cittadino e che fosse pieno giorno non ha instillato nell'anziano alcun sospetto sulla richiesta della donna, la quale, appena ne ha avuto la possibilità, ha sfilato dalle tasche dell'uomo il portafoglio per poi cercare di strappare la collana d'oro che portava al collo. Nonostante l'età e grazie all'aiuto di un cittadino che transitava in quell'istante, la vittima non si è data per vinta e ha reagito alla ladra. Nel frattempo la segnalazione giunta al 112 ha fatto intervenire una volante che si è messa immediatamente alla ricerca della donna che era riuscita a divincolarsi e scappare. Giunta in via Retusa, la 34enne, volto noto ai poliziotti, è stata bloccata e arrestata mentre la portafoglio e la collanina d'oro che gli agenti hanno ritrovato ancora in mano alla ladra al momento dell'arresto sono tornati nel pieno possesso dell'83enne.